Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è venerdì 18 novembre 2022, siamo pronti per la rassegna stampa mattutina, leggeremo insieme i giornali, il resto è il Carlino e il Corriere Adriatico come sempre per vedere le notizie del giorno anche se purtroppo anche oggi le notizie non sono affatto buone e vedremo dopo perché. E intanto vediamo l'almanacco e vediamo che oggi non si festeggia un santo ma si festeggia un evento ovvero la dedicazione della Basilica dei Santi Pietro e Paolo di cui la massima espressione è senz'altro la Basilica del Vaticano, la Basilica di San Pietro così viene come viene identificata. Poi abbiamo anche la Basilica di San Paolo fuori le mura. Sono due basiliche che sono state realizzate, costruite all'inizio dell'era cristiana dopo che l'imperatore Costantino con il suo famoso editto ha reso legale la professione della fede cristiana. La Basilica di San Pietro soprattutto fu costruita sopra un'area cimiteriale dove appunto era stato sepolto anche San Pietro e andare a visitare quello che c'è sotto il pavimento, devo dire che è molto suggestivo, sì andare a vedere le grotte dei papi dove sono sepolti i papi certamente fa un'impressione, un'emozione particolarmente forte, ma andare ancora più sotto e vedere quello che resta dell'area cimiteriale romana è ancora più particolare, più bello perché da un pertugio si può vedere anche il luogo dove veramente fu sepolto San Pietro e poi anche San Paolo. La Basilica di San Paolo fu distrutta da un incendio nel XIX secolo e poi ricostruita ancora più bella di prima. Insomma sono delle chiese che attirano molto la cristianità ancora oggi perché sono i capisaldi della fede dei due apostoli che hanno propagandato in tutto il mondo l'annunzio dell'Evangelo. Vediamo anche le previsioni del tempo. Questa mattina c'era a Sufano un cielo parzialmente stellato ma sembra che le previsioni del tempo dicano che il tempo si stia rovinando. Cieli molto nuvolosi previsti per oggi su tutte le marche con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Il mare è poco mosso, le temperature oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi. Aumenta un pochino la minima rispetto a ieri ma diminuisce la massima. Ieri era 17, ora è 16 i gradi. Bene, ci ho detto, diamo un'occhiata veramente dopo che ve l'ho descritto, quello che si vede fuori dei nostri studi. Vediamo una bella panoramica di Fano presa da Montegiove, giornata ancora un po' grigia, l'alba è appena arrivata. No, sono le 7.03, l'alba è alle 7.05, quindi il sole deve ancora sorgere, sorgerà tra pochi secondi e tramonterà alle 16.40 di oggi. Ed ora apriamo i giornali a partire dalla non certo bella notizia che vi ho annunciato. Muore travolta vicino alla lavanderia del figlio. Un terribile, drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri nella zona industriale di Bellocchi. È deceduta Teresa De Matteis, 74 anni. È rimasta schiacciata da un tir a Bellocchi, un tir che faceva manovra, procedeva a marcia indietro. L'autista non ha visto la donna che si trovava appunto alle spalle e l'ha travolta. La donna è finita purtroppo sotto le ruote. La tragedia nel cuore del pomeriggio nella zona industriale. Ebbene, si tratta, dicevo, di Teresa De Matteis, che era residente a Dancona, ma viveva molto a Fano, dove seguiva l'attività di famiglia. Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale, il tir stava facendo manovra in retromarcia quando per motivi da accertare ha travolto la donna. L'autista è un uomo di 53 anni, il quale non si sarebbe accorto appunto della presenza della donna e quando ha capito, quando ha visto che cosa era accaduto, è caduto sotto shock. Shock anche tra i passanti e i dipendenti delle aziende che si trovano nei passi. Poi il discorso viene ampliato sulla pericolosità della zona industriale, sull'assetto delle careggiate. Insomma, si cerca anche di valutare questi parametri, però rimane il fatto che qui è stata una grande fatalità. E purtroppo questa donna, Teresa De Matteis, è deceduta. E poi si parla di terremoto oggi sui giornali. Tremoto perché ieri l'amministrazione comunale di Fano ha convocato una conferenza stampa facendo un consultivo dei danni che sono stati subiti sia dal patrimonio pubblico che dal patrimonio privato. Ebbene, la cifra è piuttosto consistente. Si pensava che all'inizio i danni fossero un po' trascurabili. Qualche caduta ad intonaco, qualche crepa che era apparsa in qualche edificio. In realtà così non è, perché la cifra che è stata ventilata ancora per una valutazione sommaria è stata calcolata in 30 milioni di euro, superiore a quella di Pesaro, dove il sindaco Ricci ha calcolato 20 milioni di euro. Quindi Fano ha subito ancora più danni del capoluogo. Quantificati in 30 milioni i danni del patrimonio pubblico e privato provocati dal terremoto del 9 novembre, dice oggi il resto del Carlino. Questa è la prima stima ancora da definire nel dettaglio, fornita ieri dal sindaco Massimo Seri. E ieri sono stati anche altri assessori che hanno parlato dei danni subiti dal patrimonio riferito a ciascuno il loro settore. Per esempio l'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin, ha parlato delle scuole. Ebbene oggi controlli ancora verranno fatti nelle scuole. Alcune hanno subito dei danni, anche se le elezioni non sono state sospese. E oggi si controllerà tramite una ditta specializzata, particolarmente ferrata in questo genere di valutazioni. Si tratta dell'Art Living, una ditta che è a sede in diverse località italiane, ma questa viene dall'Abruzzo. Controllerà, passerà in rassegna le scuole dell'infanzia Albero Azzurro, la scuola primaria Luigi Rossi, dove i danni sembrano siano consistenti, le scuole medie Padalino e Nuti, la scuola materna Collodi e poi anche il cimitero urbano di Via della Giustizia, quello di Sant'Andrea in Villis, quello di Carignano, la chiesa di San Francesco e la Rocca Malatestiana, dove sono apparsi segni visibili delle scosse di terremoto. Insomma, ancora continuano i controlli, perché continuano le scosse di assestamento e queste magari procurano nuovi danni rispetto a quelli che hanno provocato le prime due scosse del 9 novembre, che si sono succedute dopo pochi istanti, una alle 7.07 del mattino, l'altra poco dopo. Noi ostaggi della maleducazione, in centro storico nasce un comitato. Ieri, subito dopo la conferenza stampa che si è svolta sulla valutazione dei danni, c'è stata una riunione nella Sala della Concordia tra l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore al commercio Etienne Lucarelli e dall'assessore alla polizia urbana Sara Cucchiarini con i residenti del centro storico che si sono riuniti in comitato. Ebbene, i residenti sono stanchi, non ne possono più di quello che accade come turbativa dell'ordine pubblico nel centro storico. Dopo la rissa dell'ultimo weekend, quella di sabato scorso, quando due bande si sono affrontate con manganelli, con spade, bastoni, insomma suon di pugni se le sono date di santa ragione, perpetuando poi tutti i danni che effettuano lì ai danni dei residenti, perché poi c'è chi eccede nelle dibagioni, chi fa certe cose nelle porte delle abitazioni, insomma veramente una situazione che ormai si protrae da diverso tempo e i residenti vorrebbero che si cessasse di utilizzare, di fare questi comportamenti. E allora ieri c'è stata questa riunione in cui sono state presentate delle domande, delle istanze che riguardano sia l'ordine pubblico ma anche il decoro e la viabilità di tutto il centro storico e in modo particolare la richiesta di definire meglio i rapporti tra residenti e il mondo commerciale. E già ieri mattina la Giunta ha approvato, ha detto l'assessore Cucchiarini, delle variazioni al regolamento di polizia urbana, accogliendo in questo senso già alcune istanze dei residenti. E vedremo dopo quello che accadrà per migliorare la vivibilità nel centro storico, che è sì un luogo di raduno per tutta la città, ma è anche un luogo residenziale per chi ci vive tutta la giornata e quindi deve essere tutelato. Frontale sulla Val Cesano e qui siamo costretti a parlare di un altro incidente stradale. Un violento schianto tra la Panda e una Lancia Ypsilon nel territorio di Mondolfo. Un uomo è stato soccorso con l'eliambulanza in codice rosso. I feriti però non sono in pericolo di vita. È accaduto nella statale 424 della Val Cesano nel territorio di Mondolfo ieri intorno alle 12.10. Un incidente stradale. Qui vediamo appunto un'immagine di quanto questo incidente sia stato violento. Qui vediamo la Panda rovesciata, semidistrutta sull'asfalto. Ed ora andiamo ad Urbino. Andiamo ad Urbino per evidenziare una mostra. A Palazzo Ducale, spazio agli artisti locali. Da domani prenderà il via nella doppia veste di rassegna regionale di mostra monografica d'arte contemporanea, il premio Marche 2022. Prestigiosa la sede di questa iniziativa e prestigiosa la mostra d'arte contemporanea. Centro Commerciale Naturale vinto il bando per 63 mila euro. Serviranno questi soldi per finanziare svaliate attività artigianali in modo da rivitalizzare i vari settori imprenditoriali. E l'economia si sa quanto ha bisogno di questi sostegni in un momento di crisi particolarmente forte. E qui abbiamo invece il sindaco di Cantiano Piccini che ripete un po' un late motive che dice quasi ogni giorno alluvione, qui non si vede un euro e Cantiano ha bisogno veramente di tanti contributi, di tanti sussidi da parte del governo per rinascere. Ed è l'ennesima denuncia del sindaco di Cantiano. Danni per 60 milioni addirittura. Mentre Fano ne ha subiti 30, pesano 20, Cantiano 60 milioni. Per ora soldi solo nella raccolta dei fondi, quello che si è riusciti ad ottenere dal buon cuore della gente. Ma ancora da parte delle istituzioni, della regione, insomma dello Stato, non si è visto un euro. Ecco perché bisogna intervenire al più presto e non si può magari intervenire tra un anno e due quando le aziende poi magari non gliela fanno più e nel frattempo muoiono, chiudono battenti. Paolini, per Natale regalate i prodotti di Cantiano. E questo è un espediente del Presidente Giuseppe Paolini che da buon uomo pragmatico corre subito ai ripari. Ebbene, anche questo è un espediente. In occasione delle festività natalizie, sottolinea il Presidente della provincia, vi invito, dice, ad utilizzare le produzioni locali dei territori alluvionati nella scelta dei regali natalizi. Ebbene, Cantiano produce dei prodotti veramente eccezionali, topici, li fa solo lui e sono veramente regali che possono essere graditi sotto l'albero di Natale. Ed ora passiamo alla pagina pesarese dove si parla ancora di terremoto, qui sul resto del Carlino. Terremoto, la Regione tentenna sulla gravità rinviato il voto sullo stato di emergenza. Ho fatto prima degli accenni per quanto riguarda la valutazione dei danni. Pesaro 20.000, Fano 30.000, Cantiano 60.000. Però per la Regione questi non sono danni gravi. E nel momento in cui si chiede di proclamare, di richiedere almeno lo stato di calamità al Governo centrale, la Regione tentenna e rinvia la decisione. Acquaroli dichiara, vorrei prima avere un rendiconto sui danni degli edifici pubblici e privati. Biancani, dall'opposizione, dai banchi del Partito Democratico, dice, ma le famiglie vengono evacuate ogni giorno per i danni alle abitazioni e la Regione ancora tentenna. Ma che, ribadisce ancora il consigliere Ser Filippi, ma che il vero terremoto è stato quello del 2016, non questo. Vabbè, questa è una dichiarazione un po' così, un po' provocatoria, vorrei dire, perché poi, vabbè, le entità possono essere diverse, però quando uno è costretto a lasciare la propria abitazione, per lui tutto il mondo crolla in quel momento insieme alla propria, a parte almeno della propria casa. E intanto la provincia presenta il conto. Per la provincia sono sette i milioni di danni che sono stati subiti dalle scuole. E anche la provincia non è che ha tante possibilità per ricorrere ai ripari. E anche la provincia ha bisogno di sostegni. E poi vediamo ancora come continuano le evacuazioni. Evacuata una palazzina a Pesaro è a rischio. Altre 20 persone via da casa. Questo per dimostrare come ancora le scosse di terremoto procurino dei danni. Problemi sono sorti in un edificio a due passi da via alla marca. Alcune famiglie sono sistemate in alloggi provvisori. Si tratta di una serie di lesioni ad alcuni pilastri portanti della polizia, della palazzina adiacente a via alla marca, che ora aspettano di essere visionate da un tecnico privato da parte del condominio. Pensate che una signora di oltre 90 anni, che abita all'ultimo piano di questo caseggiato, è stata portata via in ambulanza. Intanto si demolisce la ciminiera del laboratorio Molaroni a Pesaro, la cui scarsa stabilità ha decretato lo sgombero di circa 30 famiglie dalle case sottostante. I lavori procedono celermente e probabilmente da domani i 30 sfollati potrebbero ritornare nel loro appartamento. sono stati alloggiati negli alberghi, comunque con grandi disagi, perché poi hanno dovuto lasciare molto dei loro oggetti, dei loro beni, nella casa che è stata, che poteva essere in pericolo. E quindi, per fortuna, i lavori sono rapidi. E vediamo qui in atto la demolizione della ciminiera e quindi a domani potranno tornare nelle loro abitazioni. Giriamo pagina e parliamo ancora di incidenti stradali, purtroppo, che capitano quasi quotidianamente nel nostro territorio. e vediamo quanto è accaduto a Pontevalle, dove una quattordicenne ha perso la vita. Abbiamo visto ieri i giornali che riportavano i suoi funerali, il suo ultimo saluto. Ebbene, i residenti di Pontevalle sono furiosi. Qui si sfreccia più forte di prima, nonostante quanto è accaduto. Cinzia Bertozzi dice Non è servito che una quattordicenne abbia appena perso la vita. La gente va a tutto gas. L'assessore Belloni interviene e dice Una signora ci ha donato il terreno per realizzare una rotatoria che avremo nel 2023. Questo è l'incrocio maledetto di via di Pontevalle e qui vedremo la rotatoria. Questo è un rendering per cui la rotatoria ancora non c'è, ma dovrà essere realizzata il prossimo anno. Altre soluzioni. Si parla di autoveloz che andrebbe installato un chilometro prima delle case. Questo sarebbe inutile. Secondo i residenti pensiamo al semaforo arancione. Ed ora vediamo qui invece un altro caso di violenza. Violenza sessuale. Tra poco si svolge la giornata internazionale contro la violenza delle donne e i giornali riportano in maniera episodica ma ricorrente episodi di violenza sessuale. Mi ha palpeggiata durante una lezione. Si tratta di un 63enne pesarese che è stato rinviato a giudizio dopo le accuse di una candidata di 46 anni. La difesa di lui. Facevo come Patch Adams ha dichiarato. Si tratta di un paragone con il famoso dottore che indossando gli abiti di clown gira negli ospedali. L'uomo avrebbe allungato le mani su una dipendente di 46 anni di un'azienda che opera nel settore degli alimentari. Ebbene doveva valutare un test che era stato mandato via mail a tutti i lavoratori. La procedura rientrava in un corso di formazione che periodicamente il personale deve fare. Ma si vede che queste pratiche sono state un po' particolari e una mano è finita dove non doveva andare a finire. Qua invece abbiamo un altro episodio di cronaca. Terrone hanno detto ad un abitante del Sud ad un originario del Sud e lui ha risposto all'offesa spaccando un maxistermo, una lite. Una lite è intercorsa a causa di una ragazza in un locale. Il ragazzo si sente dire terrone. Allora lui insorge in maniera molto provocatoria. Prende una sedia, la lancia contro chi ha pronunciato questa frase e la sedia finisce contro un televisore e viene spaccato. E appunto lui finisce in tribunale con l'accusa di danneggiamenti. Tiriamo ancora la pagina e qui troviamo un episodio che interessa Fano da vicino e ancora suscita clamore, suscita sensazione. Il figlio di Anastasia resta da Carloni. Un dovere accogliere il piccolo. Ora si pensa, dopo che è stato espresso il cordoglio per la morte di questa 23enne uccisa dal marito, ora l'attenzione passa al bambino di due anni e mezzo che viene custodito dalla famiglia del deputato Mirco Carloni. E in arrivo la convalida dell'affido. Poi il Tribunale dei Minori deciderà se a crescerlo debba essere la nonna. La nonna con la sorella di Anastasia che giungeranno oggi a Fano per vedere per l'ultima volta appunto la ragazza. Io e mia moglie abbiamo fatto quello che avrebbero fatto tutti, ha detto Mirco Carloni. Ora decideranno gli organi competenti. Ciò che conta è l'interesse del bambino, ha dichiarato Carloni. E intanto per domenica prossima a Fano si svolgerà una fiaccolata da parte di tutta la comunità fanese, in modo particolare anche da parte della comunità ucraina che soggiorna nella città di Fano per evidenziare sia il cordoglio ma anche la protesta contro questi atti che continuano a accadere. Quella notte non era in discoteca. La giudice non ammette i testimoni. Questo articolo riguarda il processo che si apre oggi pomeriggio. È un processo bis che riguarda la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Gli amici di Benedetta in aula per seguire il processo bis. È il procedimento a cui tengono di più i familiari delle vittime che più volte hanno ribadito che se la discoteca non fosse stata aperta non ci sarebbe stato nessun concerto e nessuna banda. In segno di vicinanza ai genitori che hanno perso i figli ed un marito che ha perso la moglie e la madre e i suoi bambini arriveranno in tribunale gli amici anche di Benedetta Vitali 15 anni di Fano una delle vittime della Lanterna. I ragazzi poi daranno voce a chi non c'è più con un'iniziativa composta una manifestazione composta ma di rilievo in maniera molto molto eclatante. Vediamo ancora una notizia di carattere culturale. Il Museo Oliveriano apre al pubblico lo aprirà il 13 dicembre prossimo con una nuova esposizione una nuova sistemazione dei reperti il Museo Oliveriano di Pesor è famoso per contenere tutto ciò che è venuto alla luce dalla necropoli di Novilara. Visite gratuite martedì 13 dicembre al complesso dove sono esposte anche le sepolture delle necropoli. Quindi un'occasione importante per vedere questo contenitore di carattere culturale. Ed ora vediamo la pagina del Corriere Adriatico. L'apertura è dedicata sulla pagina di Fano al delitto Anastasia Alashri di 23 anni la vittima di questa di questa azione compiuta dal marito che è Mustafa Alashri di 42 anni lo vediamo qui e in questa foto la procura cerca interpreti da eseguire l'autopsia e l'analisi delle macchie di sangue nella casa un fiore rosso è il simbolo della commozione che ha approvato la città di fronte a questo efferrato delitto Provo rabbia il delitto doveva essere evitato sciocche e incredulità di un collega della scuola di musica Bramucci un'altra testimonianza in merito a quanto è avvenuto e poi si parla del terremoto danni saliti a 30 milioni ora chiediamo lo stato di calamità speriamo che la regione accolga questa domanda e la trasmetta poi al governo la giunta comunale presenta il conto lesionati il municipio l'ospedale inagibili otto abitazioni e qua vediamo nella fotografia una immagine dell'ospedale Santa Croce il padiglione di recintato perché ha subito dei danni mentre in quest'altra fotografia vediamo la chiesa di San Francesco ormai perde pezzo su pezzo quasi tutti i giorni ma il terremoto l'ha scossa ancora di più e qui vediamo un pezzo di questa trabeazione che è caduta lasciando il vuoto che è all'interno e poi ancora si parla della riunione del comitato del nuovo comitato del centro storico il comitato dei residenti ha incontrato il sindaco dopo le ultime risse chiedendo provvedimenti incisivi efficaci per tutelare la vivibilità di tante famiglie sulla pagina della Val Metauro invece vediamo che il Corriere Adriatico parla dell'incidente che si è verificato nella zona industriale di Bellocchi tiri in manovra uccide una donna davanti alla lavanderia del figlio vittima Teresa De Matteis 74 anni che camminava in via Meida soccorsi inutili autista sotto shock e poi un altro incidente un altro incidente sulla Pergolese schianto frontale tre feriti gravi è accaduto nei pressi di Mondolfo un violento frontale tra due auto è avvenuto appunto sulla Pergolese nei pressi di Centocroci a Ponterio poco dopo le 12 di ieri l'impatto è avvenuto tra una Y guidata da un 48enne che andava verso Marotta e una Panda e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno questa sera ore 20.30 al TG occhio alla notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci